Si raccusa agenzia delle entrate, sciopero di due ore, carenze organizzative e cariche di lavoro. Lo sciopero stamane come annunciato dal segretario della UIL Paolo Scimitto che ha sottolineato come la situazione a causa della carenza di organico sia diventata ormai insostenibile. Perché parliamo di una paralisi della macchina fiscale con il lavoro dell'agenzia fiscale, agenzia delle entrate, agenzia delle dogane e dei monipoli coinvolti. Tutti hanno incruciato le braccia con assemblee della durata di due ore indette dalla segreteria delle pubbliche amministrazioni sindacali. Alla base della mobilitazione, spiegano poi Antonino Setola della segreteria territoriale UIL Pa e Salvatore Miranda, responsabile UIL Pa delle agenzie delle entrate di Siracusa, figurano le carenze organizzative delle due amministrazioni che si riflettono pesantemente sulla quotidianità del personale, sottoposta ai carichi di lavoro sproporzionati e mai concertati con le organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti. Nel caso dell'agenzia delle entrate, nello specifico, i sindacati lamentano l'assenza di interlocuzione con l'amministrazione, il mancato pagamento del salario accessorio negli ultimi due anni, assenza di sviluppo e carriera professionale, disattenzione da parte dell'autorità politica e assenza di visione strategica dei vertici dell'agenzia degli ultimi anni che hanno destrutturato l'organizzazione degli uffici e della sua governance. In merito allo stato di agitazione dei lavoratori dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, la UIL Pa sottolinea il gravissimo deficit di organico, attualmente quantificabile in circa 3.000 unità, ed esprime forte preoccupazione per gli scenari legati alla gestione della Brexit e alla guerra dei dazi, fenomeni che potrebbero determinare una decurtazione salariale di circa 6.000 euro. Si è amareggiati e delusi, concludono i segretari della UIL Pa, perché il Governo nazionale non ha mantenuto le promesse a suo tempo fatte per risolvere i vari problemi posti dai sindacati con il decreto fiscale e la successiva legge di bilancio, ma così non è stato.